Amici del cuore Fuori piove, Peppa e George giocano nella loro cameretta. A giocare con George ora è arrivato Richard Coniglio. Che bello! Richard e George sono amici del cuore. Si divertono tantissimo a giocare insieme. Richard e George hanno trasformato la stanza nella terra dei dinosauri. Peppa si annoia. A lei i dinosauri non piacciono. Ma ora che è arrivata Susi Pecora, anche Peppa ha un'amica con cui giocare. Susi e Peppa sono amiche del cuore. I dinosauri non piacciono neanche a Susi. A lei piace vestirsi da infermiera e giocare all'ospedale. Questa non è la terra dei dinosauri. Questo è un ospedale, esclama. Questi dinosauri mi sembrano malati, dice l'infermiera Susi. Devono andare subito a letto, conferma la dottoressa Peppa. Ma George e Richard non sono d'accordo. Ciuciuff! Che succede? La stanza non è più un ospedale. Ora è diventata una stazione ferroviaria. Ma questo è un gioco da bambini piccoli, si lamenta Peppa. E a noi bambini grandi i treni non piacciono, continua Susi. Così, poco dopo, la stazione si trasforma. Nel paese delle fate. Però, nei paesi fatati non ci sono treni. E George e Richard sono un po' tristi. Per fortuna ha smesso di piovere e si può andar fuori a giocare. Ma c'è un gioco che piace a tutti? A Richard e George piacciono i dinosauri e i treni. A Susi e Peppa piace giocare alle infermiere e alle fate. Ma saltare nelle pozzanghere di fango piace proprio a tutti. Fine